Grazie a tutti. A cui abbiamo dato il titolo questioni irrisolte e il titolo di oggi riguarda l'autonomia differenziata, le disparità territoriali e l'attuazione del PNRR. L'Italia ha questa questione di divari territoriali come una questione irrisolta dall'unità d'Italia in poi. E con me ad affrontare questa tematica che potrebbe avere evoluzioni istituzionali piuttosto critiche e che è quasi completamente omessa dal dibattito pubblico, ci saranno a discuterne il professor Gianfranco Viesti e Marina Boscaino. Il professor Viesti è professore di economia applicata presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Bari, si occupa di economia internazionale, economia industriale e si occupa da tempo della questione meridionale. Nel 2003 aveva scritto il libro Avolire il Mezzogiorno, dieci anni dopo aveva scritto Il Sud vive sulle spalle dell'Italia che produce, falso. Nel 2019 ha pubblicato un libro il cui titolo è diventato molto citato nelle discussioni che riguardano l'autonomia differenziata. Il titolo era verso la secessione dei ricchi. L'ultima fatica del professor Viesti è questo libro Centri e periferie che è uscito un anno fa e affronta con grande profondità storica e geografica lo sviluppo regionale dell'Italia e lo pone all'interno del quadro europeo. La locandina dell'incontro di oggi partiva da una cartina che c'è nell'ottavo rapporto di coesione europea. Queste tre aree cromatiche che vedete che danno proprio l'idea di una tripartizione dell'Italia, come vedete la zona in ocra chiaro è quella più sviluppata ed è direttamente collegata con il cuore mitteleuropeo dell'Europa, la parte più sviluppata. Poi c'è l'area centrale che sono regioni cosiddette in transizione e la parte arancione forte riguarda le regioni meno sviluppate e questa è la coloritura cromatica di tutto il meridione e delle zone come vedete periferiche dell'Europa. Allora prima di passare al tema dell'autonomia differenziata di cui ci parlerà Marina Boscaino che è portavoce nazionale del Comitato per il no all'autonomia differenziata. Chiederei al professor Viesti di inquadrare i divari territoriali italiani per come si sono evoluti a partire dagli ultimi vent'anni, in particolare dopo la crisi del 2008 e le politiche di austerità che hanno seguito quella crisi, per darci appunto un quadro di come il meridione e l'Italia debbano superare quelle che lei chiama la trappola dello sviluppo intermedio e i divari nei diritti di cittadinanza, parlandoci in pratica in pillole del capitolo 17-18 del suo libro. Le passo la parola, grazie. Grazie, grazie a volte, buonasera a tutti, grazie a volte dell'invito. Proviamo a dare una risposta appunto in pillole a questa domanda, perché le dinamiche territoriali in Italia e in Europa sono molto interessanti. L'errore più grave che si può fare è pensare che tutto sia sempre uguale a se stesso, invece tutto è profondamente cambiato, non necessariamente le cose cambiano per il meglio, forse non cambieranno anche per il peggio, ma il quadro è sicuramente nuovo. Quello che succede in Italia e nel mezzogiorno va collocato in uno scenario internazionale, di tipo economico, tecnologico, istituzionale e demografico soprattutto. L'altro errore che noi normalmente facciamo è quello di considerare le dinamiche dei territori come frutto soltanto di quello che succede al loro interno, invece le dinamiche dei territori, soprattutto in Europa, sono profondamente collegate le une alle altre. Questo secolo è segnato da forti processi di polarizzazione, cioè lo sviluppo è più forte nella gran parte delle aree che già sono più forti all'interno del continente. Questo provoca processi di allontanamento nello sviluppo fra le diverse regioni europee. In grande misura tutte le regioni italiane perdono terreno rispetto a quelle europee, quindi la questione dei divari interni del nostro paese va letta, contrariamente a quanto facevamo nel secolo scorso, non come una corsa di inseguimento a chi cresce più velocemente fra nord e sud, una corsa virtuosa naturalmente, ma come un processo molto più pericoloso di allontanamento di tutte le aree del paese dalle medie europee. Perché avvengano questi processi di polarizzazione è una questione molto interessante. Hanno più radici, hanno radici di carattere economico internazionale perché una parte della manifattura è andata via dall'Europa, è andata verso l'Asia e quindi questo ha colpito vecchie regioni industriali europee. Contemporaneamente le nostre regioni sono sempre più terzializzate, e questo significa che si stanno creando dei divari molto grandi, ad esempio tra le città e le aree non urbane. In Italia questo fenomeno c'è, è meno grave, ma è il fenomeno più importante che connota la vita della Francia contemporanea di cui abbiamo avuto una manifestazione plastica nei risultati elettorali. Ci sono motivi di carattere tecnologico perché queste nuove tecnologie che noi stiamo usando anche in questo momento sono abilitanti per molti versi, non dobbiamo averne paura, portano nuove possibilità, ma al tempo stesso possono portare processi di concentrazione. Quindi il valore va via dai nostri piccoli negozi di quartiere, va ad Amazon. E dunque questo rafforza la concentrazione del potere politico ed economico in alcuni luoghi soltanto del territorio. Ancora ci sono questioni istituzionali, anche queste adesso con la gravissima crisi ucraina che ci sono balzate ai nostri occhi. L'Europa ha marciato verso est, ha integrato all'interno del suo territorio o vaste aree di quella che noi chiamiamo l'Europa orientale, in realtà è un'Europa centro-orientale, è caduta la cortina di ferro e quindi l'economia europea che prima si disegnava lungo degli assi nord-sud, adesso ha acquisito una dimensione orientale molto importante. Che c'entra questo col mezzogiorno? C'entra moltissimo, molto più di quanto si pensi, perché i paesi dell'est Europa, la Polonia, la Ungheria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca in primo luogo sono diventate delle grandi aree industriali collegate con la Germania e quindi questo ha indebolito al sud. Ultimo, ma non ultimo certamente, fra i motivi di questa polarizzazione, di questo rafforzamento è il modo con cui affrontiamo politicamente queste vicende. Se nel corso della seconda metà del Novecento era un'opinione comune che queste disparità fossero una cattiva cosa, che si dovesse contrastarle, quindi bisognasse fare intense politiche di coesione territoriale, c'è scritto anche nel Trattato Europeo che bisogna farlo, in questo secolo l'adesione verso questa impostazione di principio è diventata molto più morbida, c'è un'accettazione molto più diffusa delle disuguaglianze, tanto tra le persone quanto tra i luoghi. Le disuguaglianze tra le persone e le disuguaglianze tra i luoghi tra l'altro sono due facce della stessa medaglia, perché le persone più deboli della nostra società tendono a vivere di più nelle aree che sono più deboli e naturalmente alcune aree sono più deboli perché vi vivono alcune delle persone più deboli. C'è un'accettazione molto maggiore di queste disuguaglianze come frutto di quello che il mercato stabilisce e quindi l'intensità della risposta politica a questi fenomeni che citavo prima, che dovrebbe essere ancora maggiore che nel passato, è invece diventata più modesta. Questo è lo scenario d'insieme. All'interno del nostro paese questo nuovo secolo ci ha portato a un arretramento complessivo di tutta l'Italia rispetto agli altri grandi paesi europei, un forte arretramento complessivo, quindi il mezzogiorno è diventato, è andato decisamente indietro rispetto soprattutto alle aree dell'Europa settentrionale, dell'Europa centrale e dell'Europa orientale. All'interno dell'Italia nessuna parte del territorio ha tenuto il passo con le medie europee, anche se si è un po' sgranato il centro-nord, nel senso che il sud è rimasto tutto insieme, tutto unito indietro, decisamente indietro. Il fatto più interessante però è che si è un po' sgranato il centro-nord, nel senso che alcune parti del centro-nord, soprattutto da Milano verso destra, da Milano verso est, la Lombardia orientale, l'Emilia e il Veneto, hanno avuto degli andamenti decisamente meno peggiori rispetto al resto del centro-nord. Quindi le differenziazioni territoriali italiane si sono articolate di più, nel senso che purtroppo non ci sono state differenziazioni all'interno del sud con alcune aree che vanno meglio di altre. Certamente la situazione in Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Campania è per molti versi migliore rispetto a Calabria, Sicilia e Sardegna. Calabria e Sicilia soprattutto sono il pezzo nettamente più debole dell'area debole, ma la differenza territoriale si è manifestata con l'indebolimento di alcune regioni molto belle, che sono molto simpatiche, che ci piacciono molto, le Marche, l'Umbria, gran parte del Piemonte, la Liguria, che sono parti del territorio italiano che hanno avuto un forte arretramento rispetto alle loro condizioni di partenza. Tutto questo, e concludo, si intreccia molto con la vita delle persone, nel senso che, come dire, se fossimo nel secolo scorso, basterebbero le analisi dell'economia per raccontare che cosa succede nei territori. Essendo invece nel nuovo secolo, c'è bisogno moltissimo della demografia e quindi delle variazioni della popolazione. Perché? Perché tutto il mondo, in particolare l'Europa, è radicalmente cambiata da questo punto di vista e da essere un continente che abbedeva la sua popolazione crescere, seppure a ritmi sempre più lenti, siamo diventati un continente con una popolazione che decresce e molto interessato da fenomeni migratori, sia interni al continente, perché gli europei si spostano sempre di più, sia, come ben sappiamo, dall'esterno. Questa parte demografica è molto interessante perché questa sì è una grande novità che distingue nettamente il Mezzogiorno dal centro-nord, nel senso che non è tanto l'economia del nord che è andata così meglio dell'economia del sud, ma è la demografia del sud che è molto più preoccupante della demografia del nord. Perché da un lato i flussi migratori che arrivano in Italia, che hanno un effetto assolutamente positivo sul nostro paese da ogni punto di vista, anche perché lo rafforzano demograficamente, sono flussi migratori che vanno tutti da Roma in su. Noi ci distinguiamo dagli altri paesi europei perché gli immigrati si fermano molto poco nel Mezzogiorno, invece si concentrano tutti nel centro e nel nord. Quindi abbiamo una rappresentazione tradizionale dell'Italia, il sud diverso dal centro-nord. E poi ci sono dei fenomeni di migrazione interna che sono ripresi molto perché soprattutto le classi di età più giovani si spostano dal sud, prevalentemente un pochino verso il centro, ma prevalentemente verso il nord. E quindi è l'effetto combinato degli andamenti economici e di quelli demografici che disegna uno scenario relativamente preoccupante. Il sud conserva una significativa debolezza del suo tessuto economico che non è facile da rafforzare in questo scenario internazionale. Si può fare, ma ci vuole tanta volontà politica e comunque non succede per opera delle forze di mercato. Le forze di mercato portano lo sviluppo altrove. Non lo portano certamente nel Mezzogiorno. Ma preoccupa molto dal punto di vista demografico, soprattutto l'uscita delle corti più giovani. In questo quadro, per dare il là all'intervento di Marina Boscaino, anche in Italia si è molto rafforzata l'idea che il benessere dei cittadini e la dotazione di servizi di cui essi possono godere non debba essere, come c'è scritto nella nostra Costituzione, uguale ovunque, ma possa essere in qualche misura collegato al reddito dei luoghi. Una differenziazione dei diritti di cittadinanza interna al Paese, che appunto non c'è in Costituzione, ma comincia a diventare una realtà di fatto del nostro Paese, in base a quello che i cittadini meritano in quanto contribuenti fiscali. Un legame tra la ricchezza dei territori e i servizi che sono forniti. Che è un grande tema, perché naturalmente una asse molto forte di risposta a queste tendenze è appunto quello di rafforzare l'istruzione, la salute, il welfare, cioè i grandi servizi di cittadinanza, e renderli più forti in tutto il Paese, in particolare nelle aree più deboli. Invece, come dire, questa maggiore accettazione politica delle disuguaglianze può arrivare a conseguenze difficilmente immaginabili 30 anni fa, e cioè prese di posizione, iniziative politiche, come quelle dell'autonomia differenziata, per graduare la dotazione di servizi, la dotazione di scuola, la dotazione di servizi di salute, la dotazione di servizi di welfare, in base alla realtà delle regioni. Quindi, come dire, il nostro Paese è già prima del Covid, già prima della guerra, e ancora più adesso col Covid e la guerra, contemporaneamente insieme, come abbiamo in queste settimane così tragiche, è attraversato da questi sentimenti di paura, perché l'Italia va molto peggio, ha smesso di crescere, va molto peggio rispetto al resto dell'Europa, di indebolimento dei legami che ci tengono insieme, di maggiore accettazione politico-sociale delle disuguaglianze, che rappresentano, come dire, il profondo terreno di cultura per proposte politiche, come quelle dell'autonomia differenziata, che non cade dal cielo. Ecco, questo finisco qui. L'autonomia differenziata non cade dal cielo, ma è il frutto di derive molto profonde nella politica, nella cultura, anche nell'economia della società italiana, perché naturalmente, come dire, la richiesta di autonomia differenziata è molto una richiesta difensiva, di aree forti che si sono indebolite. è la stessa cosa, identica cosa che è successa in Catalogna. Quando il Veneto e la Catalogna, pur essendo così ricche, hanno dovuto ridurre i servizi per i propri cittadini a causa del cattivo andamento dell'economia e delle politiche di austerità, hanno cominciato a pensare ma perché noi che siamo così ricchi dobbiamo ridurre i servizi ai nostri cittadini e riduciamo i servizi ai cittadini delle regioni più povere, perché noi siamo così ricchi che ci possiamo permettere un livello di servizi maggiori. Capisce? È un intreccio di grandi dinamiche dell'economia, di sentimenti profondi della società e della politica e di cui le proposte politico-legislative come dire, sono l'unico effetto. Questa non è necessariamente una buona notizia, anzi, tende ad essere una cattiva notizia nel senso che dietro l'autonomia differenziata ci sono motivazioni forti che la spingono. Non è, come dire, un'alzata di testa improvvisa ma è una risposta profondamente sbagliata, a mio avviso profondamente incostituzionale, profondamente da contrastare, incostituzionale nei suoi aspetti come dire, più estremi, non per il 116 che sta nella Costituzione che vengono da molto lontano. Quindi è un tema molto importante che si intreccia molto bene con le grandi dinamiche. La ringrazio, la ringrazio. Sicuramente l'autonomia differenziata mi sembra sicuramente ha una radice profonda che parte dalla riforma del 2001 della Costituzione ma che è un tradimento diciamo dello spirito della Costituzione nel suo articolo 3 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona eccetera eccetera e quindi invece queste tendenze all'arroccamento e alle piccole patrie dell'autonomia differenziata questa 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 rimozione degli ostacoli non può che andare in senso contrario cioè è un aumento degli ostacoli allora Marina Boscaino è un'insegnante impegnata sul fronte dei diritti civili sociali e politici da tanto tempo e dal 2019 è portavoce nazionale di questo comitato che con grande fatica cerca di far emergere un dibattito che invece è molto carsico è molto nascosto e tutto parte da un atto di un accordo tra il governo e le tre regioni più ricche che il professor Biesti ha citato Lombardia Veneto e Emilia Romagna fatti a pochi giorni dalla fine del mandato del governo Gentiloni ecco Marina siccome appunto se ne parla poco ci puoi dare un un inquadramento di come sta evolvendo come nasce questa proposta e che impatti avrebbe questa proposta di queste tre regioni che poi ad un certo punto però ha trovato altri consenso anche in altre regioni oltre alle tre quindi ti passo la parola Marina grazie tra l'altro guarda scusa se ti interrompo ma ho visto nel tuo cv che hai curato un libro un libro che era un'intervista di Furio Colombo a Romano Prodi che si intitolava ci sarà un'Italia alla luce di questa evoluzione istituzionale quale Italia ci sarà è un'Italia che grazie innanzitutto per l'invito grazie Antonella saluto il professore con cui ci siamo incontrati diverse volte abbiamo anche presentato centri periferie in un'occasione di qualche mese fa sarà un'Italia che vedrà sclerotizzarsi diciamo quella accettazione delle diseguaglianze che di fatto hanno cominciato a moltiplicarsi proprio con la riforma del titolo quinto del 2001 perché noi ragioniamo su quelle che saranno le conseguenze dell'autonomia differenziata se di fatto dovesse entrare in effettiva concretezza il dispositivo dell'articolo 116 comma 3 cioè che le regioni a statuto ordinario possano potenzialmente accedere fino a 23 materie che sono previste tre attualmente di legislazione esclusivamente statale cioè sono l'istruzione l'ambiente e la giustizia di pace e le altre 20 nel terzo comma dell'articolo 117 che contiene le materie attualmente di legislazione concorrente che sono delle materie importantissime importanti quasi quanto le prime tre in alcuni casi quanto le prime tre se pensiamo che tra queste c'è il diritto alla salute se pensiamo che tra queste ci sono c'è la ricerca scientifica c'è ci sono i beni culturali c'è ci sono tutte le infrastrutture territoriali i porti gli aeroporti le autostrade e insomma veramente c'è la sicurezza sul lavoro insomma ci sono delle materie pesantissime ma questa partizione tra Stato e Regioni è già iniziata nel 2001 per quella riforma che Gianni Ferrara chiamava un capolavoro di insipienza politica e istituzionale non a caso per come scritta e per quello che ha prefigurato e di fatti gli effetti di questa divaricazione di competenze si sono già fatti sentire enormemente negli ultimi due anni in particolare con la crisi del covid dove noi abbiamo potuto constatare precisamente che cosa significherebbe oltre quello che già ha significato il fatto che esistano 20 sistemi 21 anzi 22 sistemi sanitari regionali o provinciali e 22 sistemi scolastici differenti noi basta considerare i dati che ci dà la fondazione Gimbe nella prima parte del lockdown in un certo periodo di tempo della prima parte del primo lockdown noi abbiamo avuto la Lombardia che è stata la regione del mondo con il maggior numero di morti nel rapporto tra territorio ed abitanti quindi questo grande sistema sanitario Lombardo che nel frattempo dal 2001 in virtù appunto della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione aveva fatto in tempo a privatizzare il 45% del proprio servizio sanitario ecco che ha dimostrato che cosa accadrebbe quindi il mondo sarà questo sarà un mondo in cui sarà istituzionalizzato il fatto che esistano come diceva prima il professore cittadini sostanzialmente di serie A di serie B e di serie Z e che a questo grazie alla divaricazione al tentativo anche di smembrare quella che è la capacità coesiva delle popolazioni in virtù ancora di quei fattori di cui parlava il professore una politica che non è più in grado di incidere abbastanza quell'accettazione quasi sacrificale delle diseguaglianze l'assenza totale del tema dell'interesse generale e della solidarietà o di altri principi pure previsti nella prima parte della Costituzione tu citavi l'articolo 3 ecco sarà un mondo in cui ognuno sta solo sul cuore della terra con le proprie con il proprio diciamo diritto di cittadinanza più o meno elevato a seconda che se sei nato a Sondrio o se sei nato a Matera ecco io credo che questo dovrebbe essere una cura di tutti noi cercare di contrastare questa deriva che tra l'altro pur essendo come dicevo già di fatto concretamente realizzata in virtù dell'attuale disposizione costituzionale ovvero ad articolo 116 3 non ancora realizzato prevede un'ulteriore accelerazione laddove quei percorsi quelle preintese che come dicevi giustamente sono tre diverse preintese quindi un regime pattizio diciamo ci mettiamo d'accordo governo e singola regione tu chiedi 23 materie perché sei il Veneto tu ne chiedi 20 perché sei la Lombardia tu ne chiedi 16 perché sei l'Emilia Romagna e tutto questo determinerà un gioco non solo di materie ma anche di funzioni pensate che le funzioni richieste dal Veneto sono 200 funzioni tra cui c'è anche la gestione dei migranti cioè io credo che sia qualcosa che dovrebbe ecco quando questi patti perché patti tali sono preintese che diventeranno intese di fatto verranno perfezionate se non sia mai dovessero venire perfezionate ecco noi ci troveremo davvero alle piccole patrie come dice il professor Villone ad un regime signorile a marce diverse dove ci sarà sia la signoria dei visconti ma ci sarà anche la signoria dei signori nessuno che saranno ulteriormente portati a dedicarsi a quel turismo sanitario per esempio che oggi è all'ordine del giorno in regioni come la Calabria come la Sicilia ma anche in altre regioni Calabria e Sicilia che in virtù di tale turismo sanitario accessibile solo a chi ne ha la disponibilità acquisiscono anche soldi dalle regioni di provenienza dei malati quindi insomma siamo proprio alla rivoluzione totale di quelli che sono i principi della prima parte della Costituzione sarà un mondo molto brutto sarà ancora più brutto del mondo attuale grazie Marina allora proviamo a vedere qualche spiraglio di positività nel senso che la pandemia che come è scritto nel rapporto di coesione ha fatto aumentare i tassi di mortalità del 13% in media in Europa ma del 17% nelle regioni più meno sviluppate appunto ha portato ad una ad un'inversione rispetto alle politiche di austerità almeno nelle intenzioni c'è stato questo grande stanziamento per l'attuazione del next generation con i vari piani nazionali di ripresa e resilienza che per l'Italia scusate che condivido lo schermo aveva questa ripartizione tra queste tre e tra questi tre driver principali un 40% circa della transizione ecologica un 40% circa nella transizione per il mezzogiorno e circa 27% per la transizione digitale allora questo piano potrebbe essere una il viatico per avviare quelle politiche di infrastrutturazione materiale immateriale di cui l'Italia soprattutto al sud ha molto bisogno e quindi chiedo al professor Biesti se da questi primi mesi di implementazione di quel piano alla luce anche delle difficoltà storiche che l'Italia ha sempre avuto nello spendere i soldi stanziati nelle politiche strutturali europee e considerando il forte gap che hanno le amministrazioni locali del mezzogiorno anche in termini proprio di dipendenti con un numero di dipendenti della pubblica amministrazione rispetto alla popolazione che è circa la metà della media europea come come pensa che questo piano di ripresa e resilienza possa colmare un po' i gap di cui ci ha parlato prima dunque l'iniziativa europea è molto importante e noi un po' l'abbiamo trascurata presi dalla congiuntura delle cose dalla congiuntura italiana e poi adesso da queste vicende dell'Ucraina ma la decisione di avviare questo piano per la nuova generazione è particolarmente importante per almeno due motivi il primo motivo è che si mettono in comune le sorti dell'Europa nel senso che i paesi europei sono tutti solidali fra loro nell'indebitamento questo indebitamento che viene fatto è un indebitamento a valere sulle risorse del bilancio comunitario quindi a valere sui contributi di tutti gli stati europei questa è la prima volta che succede ed è molto importante il secondo motivo è che queste risorse non sono distribuite in modo equilibrato all'interno dell'Europa ma vanno in maniera molto più intensa verso quei paesi che hanno maggiori debolezze strutturali o che sono stati maggiormente colpiti dal Covid quindi è la ripartizione delle risorse molto più favorevole per l'Italia e per la Spagna di quanto non sia per altri paesi europei e tra l'altro questo significa riproporre un principio politico della massima importanza esattamente quello che si è molto indebolito in Italia e cioè che le sorti della casa comune dipendono dal benessere di tutti e se c'è da investire bisogna investire in modo particolare su chi è in maggiore difficoltà su chi è più indietro su chi ha maggiori problemi strutturali perché è la crescita di chi è rimasto più indietro la crescita dell'Italia e della Spagna che può in particolare determinare il benessere dell'intera Europa i tedeschi hanno che sono tanto criticabili per tanti motivi ma non per questo certamente il governo tedesco ha appunto stabilito che per il benessere della Germania è assolutamente fondamentale investire in Italia e in Spagna e cioè il benessere del governo tedesco non ha preteso per sé le risorse che pure vengono dalle tasse pagate dai tedeschi ma in maniera molto lungimirante molto egoista ha puntato sulla circostanza che queste risorse fossero investite in Italia e in Spagna perché è la crescita dell'economia italiana e spagnola e quindi la crescita dei consumi italiani e spagnoli che fa il bene della Germania perché quanto meglio noi stiamo tanto più Volkswagen compriamo e questo è il principio che c'era alla base di tutte le politiche di coesione che sono state fatte nel Novecento cioè l'investimento nelle aree più deboli non è solo per il benessere di chi vive nelle aree più deboli ma è per il benessere complessivo perché rafforza anche le aree più forti e dunque questo progetto europeo è importante anche perché come diceva lei certo gli stati membri hanno avuto larga autonomia nel scegliere che cosa fare come è giusto che sia però c'è un abbozzo di politica europea nel senso che una quota delle risorse è vincolata alla transizione digitale una quota delle risorse è vincolata alla transizione verde quindi non è la Commissione europea che viene a dirci quello che dobbiamo fare in Italia ma ci dice che nell'insieme noi dobbiamo puntare molto su questa doppia transizione che è una cosa molto positiva e riuscirà il piano nazionale italiano a contribuire a risolvere i nostri problemi e anche i problemi dei divari territoriali è molto difficile dirlo segnalo a chiunque fosse interessato che stiamo molto faticosamente visto il clima anche di discussione nel nostro paese avviando una discussione su questo sul sito della rivista Il Mulino che è una discussione accessibile senza paywall una discussione che chiunque può andare a consultare io ho provato a lanciare lì la discussione appunto scrivendo un breve testo che si chiama riuscirà il PNRR a rilanciare l'Italia e poi stiamo provando a discutere appunto con le difficoltà del fatto che adesso si parla di tutto tranne che di questo del nostro paese con interventi non so da Chiara Saraceno ad altri sui diversi tanti aspetti del PNRR non posso riassumere questa discussione qui perché come dire nei confronti del piano dobbiamo assumere un atteggiamento molto attento e molto pragmatico e da un lato essere molto attivi di cosa che non sta succedendo se non in misura limitatissima nella critica e nel suggerimento rispetto al governo cioè io trovo profondamente sbagliata questa attitudine largamente prevalente nella stampa e nei partiti della coalizione di governo attitudine del c'è il governo dei migliori lasciamolo lavorare quindi loro sanno bene che cosa fare per noi la trovo profondamente è sbagliata anche perché il piano è intricatissimo è complicatissimo le pubbliche amministrazioni centrali sono molto deboli e quindi una discussione la maniera migliore come dire per aiutare Draghi non è battergli le mani ma parlargli molto criticarlo molto suggerire molto e allo stesso tempo però non dobbiamo assumere un atteggiamento catastrofista perché l'esito del piano è molto aperto molte delle cose che sono previste nel piano sono molto positive cito un esempio per tutti la circostanza che il nostro paese stia investendo 4 miliardi e 600 milioni per la realizzazione di nuovi asili nido è una scelta politica a mio avviso estremamente positiva estremamente importante e quindi come dire bisogna attifare perché questo si realizzi non bisogna attifare perché il piano non abbia successo anche perché se il piano italiano non ha successo come dire non ci vuole molto a rifare tutto il percorso che abbiamo fatto di coesione europea tutto al contrario e quindi a tornare a uno scenario di contrapposizione fra i paesi in questo quadro riuscirà il PN la sua quindi vado quindi ci sarebbero infiniti temi da discutere sul piano perché è un piano molto grande in Italia è molto più grande che in tutti gli altri paesi europei per capirci in Italia è circa 230 miliardi in Germania è 28 quindi è una scala incommensurabile un piano articolatissimo complicatissimo importantissimo dentro ci sono la politica sanitaria la politica della ricerca la politica delle infrastrutture la politica industriale la politica dei rifiuti quindi meriterebbe diciamo una ed è essendo anche molto come dire disomogeneo nei suoi contenuti non merita un approccio di totale approvazione di totale critica bisogna molto entrare nel merito e dire la misura per gli asili nido è assolutamente eccellente la misura che finanzia i borghi la ristrutturazione di questi borghi pittoreschi all'interno del paese del Ministero della Cultura con 420 milioni di euro è una misura estremamente discutita bisogna entrare nel merito riuscirà il piano a ridurre le disuguaglianze territoriali mi spiace molto ma anche a questa domanda la mia risposta non può che essere forse perché da un lato bisogna dare atto al governo di avere preso questa scelta di indirizzare il 40% delle risorse verso il mezzogiorno forse sono poche ma comunque è un impegno interessante loro poi hanno un pochettino come dire un po' in extremis inserito anche una norma per cui questa percentuale va applicata non solo al totale ma anche a ogni singola misura quindi c'è un indirizzo politico di cui bisogna dare atto però al tempo stesso che questo sia raggiunto è estremamente dubbio è dubbio non è detto che non è raggiunto perché perché è dubbio perché innanzitutto come dire è un approccio molto quantitativo che è molto più debole cioè si dice il 40% deve andare al sud per principio ma non si dice da nessuna parte bisogna fare gli asili di do laddove non ci sono tra le due affermazioni c'è una grande differenza la seconda bisogna fare gli asili di do laddove non ci sono innanzitutto è molto più come dire è molto più facile che assuma un grande raccolga un grande consenso politico e che si traduca operativamente in norme che ti portano a indirizzare le risorse del PNR nei comuni italiani ovunque essi siano dove non ci sono gli asili di do dire il 40% al sud è molto rozzo si presta a contestazioni non è dirimente su diverse misure sconta ed è come dire riferito all'allocazione delle risorse cioè io metto il 40% delle risorse in mano o alle amministrazioni del mezzogiorno a soggetti come le ferrovie dello Stato per investimenti nel mezzogiorno quindi il 40% delle allocazioni che questo si traduca nel 40% delle realizzazioni è un altro passo ancora da vedere perché ahimè vi permetto di correggerla levemente non è che il nostro paese ha difficoltà a fare quanto è previsto nelle politiche di coesione il nostro paese ha grande difficoltà a fare le opere pubbliche le infrastrutture a tutte le sue latitudini e quindi c'è un grande problema visti anche i tempi strettissimi di questo piano e fra quattro anni e due mesi fra quattro anni e un mese deve essere tutto finito tutto costruito e tutto aperto staremmo a vedere è molto difficile che questo succeda c'è un problema di realizzazione i piani operativi mi scusi professore devono essere completati entro il 2023 se non sbaglio dunque oltre alle realizzazioni entro la fine del piano allora il PNR è una scadenza finale giugno 2026 per tutto per le realizzazioni ma la parte di sì dopodichè ha un cronoprogramma estremamente articolato perché semestre per semestre c'è una lista complessivamente sono 517 obiettivi intermedi in termini o di realizzazioni normative o di realizzazioni fisiche quindi abbiamo una scadenza finale chiude il baraccone a giugno al 30 giugno del 2026 e abbiamo anche una serie di scadenze intermedie che sono quelle su cui il governo fa molta comunicazione anche perché raggiungere tutte queste tappe intermedie sono tutte scritte in questo contratto che abbiamo fatto con l'Europa che è pubblico quindi le conosciamo e il governo italiano è tenuto a raggiungere le semestre per semestre che è molto importante sia per far vedere che la cosa cammina ma anche perché se si raggiungono questi obiettivi intermedi che tecnicamente si chiamano traguardi e obiettivi se si raggiungono questi incastiamo un assegno cioè i soldi non ce li hanno dati tutti all'inizio ma ce li danno c'è un problema realizzativo delle tante cose possibili da dire ne vorrei dire un'ultima che è molto importante la cosa in assoluto più preoccupante del piano è che esso prevede in un numero relativamente limitato di casi contiene i nomi dei progetti cioè se voi vi leggete cosa che non vi consiglio se non siete fortemente interessati il piano trovate che in circa il 20% delle risorse complessive c'è il nome e cognome di dove vanno a finire la ferrovia tot chilometri della ferrovia da Pescara a Roma il grande progetto Cinecittà a Roma l'intervento sul Po nome e cognome nella maggioranza dei casi non è così allora per l'istruzione o per la sanità i ministeri fanno dei riparti territoriali e dopodiché si procede con la scelta dei progetti ma in molti altri casi dove vanno a finire questi soldi come si fa a sapere dove vanno a finire questi soldi e il meccanismo che alloca territorialmente queste risorse è molto spesso un meccanismo a bando cioè i ministeri fanno dei bandi a cui partecipano non le imprese ma le amministrazioni locali principalmente i comuni ma anche le università per esempio anche i gestori dei servizi idrici pubbliche amministrazioni territoriali quindi la filosofia del piano non è una filosofia che mira a destinare in maniera omogenea sul territorio o in maniera più forte dove ce n'è più bisogno gli interventi che si fanno ma questi interventi vanno a finire a chi vince i bandi che è comprensibile dal punto di vista del governo perché il governo così si assicura il più possibile che i soldi li dà ad amministrazioni che poi sono in grado di fare quello che vogliono fare che i progetti ci sono perché devono finire in 4 anni però è politicamente una scelta a mio avviso molto pericolosa perché applica agli investimenti pubblici dei criteri di concorrenza fra gli enti di competizione fra gli enti che l'ente locale è in grado di più di fare un buon progetto ha i soldi come dire non è questo è un principio estremamente discutibile questo pur con la clausola del 40% perché poi se non c'è il progetto il 40% non si concretizza e questo quindi che cosa sto dicendo per concludere sto dicendo che dove vanno a finire territorialmente i soldi del PNRR non è scritto dall'inizio e non c'è oltre questo generale 40% un impegno del governo perché questi vadano a finire dove ce n'è più bisogno vanno a finire dove vanno a finire lo sapremo ad esito di questi processi allocativi è una scelta politica questo vale per tantissime misure del PNRR è una scelta politica molto importante e naturalmente questo può provocare come lei diceva una maggiore difficoltà complessiva delle amministrazioni del Sud perché le amministrazioni comunali soprattutto del Sud sono più deboli che nel resto del Paese questo ha a che fare anche con i meccanismi di attuazione della Costituzione tutto si tiene ha a che fare con i meccanismi di finanziamento dei comuni così come sono cambiati in attuazione della riforma costituzionale del 2001 ma non è solo Sud e Nord possono darsi allocazioni squilibrate all'interno del Sud fra regioni per esempio la Calabria è molto più debole dell'Abruzzo della Cuglia possono darsi allocazioni squilibrate nelle regioni perché le amministrazioni dei comuni più grossi possono essere maggiormente in grado di intercettare le risorse rispetto all'amministrazione dei comuni più deboli ci sono dei casi Torino Napoli Reggio Calabria di Catania di amministrazioni fortemente indebitate che quindi possono avere come dire grandi difficoltà a mettere in atto le procedure ordinarie per realizzare tutto questo e infine tutto questo ci porta perché tutto si tiene ai temi che citava Marina Boscaino prima e cioè dobbiamo sempre tenere a mente che il fine ultimo non è quello di costruire un asilo nido questo è importante perché è un'attività di investimento che fa girare l'economia ma non è che costruiamo l'asilo nido per mettere sulle mura noi costruiamo un asilo nido perché ci vadano i bambini ma perché ci vadano i bambini c'è bisogno degli insegnanti e gli insegnanti degli asili nido non li paga il PNRR ma li pagano le risorse ordinarie dei comuni che sono come dire fanno parte contemporaneamente del capitolo PNRR e del capitolo autonomia regionale autonomia comunale e autonomia differenziata cioè il PNRR ci ributta in faccia i temi diciamo non tanto dell'autonomia differenziata quanto dello Stato delle autonomie italiane dei piani di rientro dei piani di rientro sanitari ma in maniera ancora più clamorosa dei criteri di finanziamento dei comuni di come sono stati stabiliti i fabbisogni per i comuni per esempio tutti ricordiamo che nel 2016 quando si è detto quanti soldi dobbiamo dare ai comuni perché gestiscano gli asili nido che fabbisogno di asili nido c'è nei comuni italiani la risposta clamorosa del governo di centro-sinistra dell'epoca è stata beh il fabbisogno è uguale al servizio che c'è se non ci sono gli asili nido significa che non ce n'è bisogno e quindi a Reggio Calabria non gli diamo niente perché tanto lì non ci sono gli asili nido che gli diamo a fare i soldi per come dire finanziare l'asili nido e quindi tutto si tiene nel senso che il PNRR è molto importante e interessante è la parte di investimento ma l'investimento è utile se genera servizi e quindi deve essere accompagnato da buone politiche correnti mettere i binari fra Reggio Calabria e Salerno è una cosa utile ma è utile se poi ci vanno i treni se non ci vanno i treni come dire rischiati capisce è un problema ulteriore che il problema è non abbiamo i soldi poi non ce la facciamo a fare le opere io le sto ponendo il problema finale che è quello passa la fatina con la bacchetta magica ci fa fare tutti gli investimenti previsti dal PNRR abbiamo risolto no non abbiamo risolto ancora perché li dobbiamo mettere a valore e questo ci riporta ai temi dell'autonomia e dei principi che la sorreggono se il principio è che le donne e i bambini piccoli hanno diritto all'asilo nido solo laddove già ce l'hanno siamo molto lontani da principi di equità e di di eguaglianza tra le persone e poi non ci dobbiamo stupire se al sud abbiamo tassi di occupazione femminile da sì è molto sud però tenda presente che anche la Turchia è anche molto diciamo queste geografie sono geografie complesse anche in Lombardia ci sono tanti comuni senza asili nido in Piemonte ci sono il tasso di occupazione femminile della Lombardia è molto diverso ma tuttavia l'inesistenza di servizi sul territorio rende i diritti di cittadinanza molto dispari anche all'interno delle stesse regioni è chiaro che c'è un grande tema nord sud ma non è solo quello non è solo quello se lei mi parla dell'Emilia o della Toscana lì il servizio è molto più diffuso ma se parliamo di Lombardia o Piemonte il servizio è molto meno diffuso ci sono delle grandi disparite cioè a noi diciamo il nostro problema non è il meridionale il nostro problema è il cittadino italiano che ovunque viva deve avere a disposizione una quantità e una qualità di servizi tendenzialmente uniformi certo ma rispetto poi chiudiamo subito e passo la parola Marina rispetto a questo discorso della concorrenza dei bandi quella struttura dell'agenzia della coesione che era stata creata da Fabrizio Barca proprio per intervenire in supplenza laddove le amministrazioni locali non riuscivano a utilizzare gli stanziamenti dei fondi strutturali non si sta attivando qualcosa di questo genere dunque no l'agenzia non ha mai fatto quel mestiere l'agenzia fa il mestiere di come dire gestire monitorare le risorse finanziarie europee ma non di fare assistenza tecnica ai comuni e nel PNR l'agenzia gestisce alcune risorse quindi ha ad esempio emanato alcuni bandi a cui partecipano le amministrazioni locali qui diciamo le butto lì un tema che non tocco per evidenti motivi di tempo e cioè che nel PNRR vedo una pericolosa forse voluta secondo me è voluta ma è un'opinione personale sotto valutazione dell'importanza delle amministrazioni pubbliche per il benessere del nostro paese cioè il PNR scarica in generale sulle amministrazioni pubbliche grandissime responsabilità ma non si occupa minimamente di potenziarli così è il piano da quando è partito il piano in poi hanno cominciato progressivamente a rendersi conto che questo poteva essere un grande problema e quindi sono corsi come dire al riparo attraverso tutta una serie di misure che ha fatto Brunetta che ha fatto la Carfagna il sostegno della Cassa Depositi e Prestiti come dire perché gli fallisce tutto il piano perché se le amministrazioni sono deboli gli fallisce tutto il piano ma è a mio avviso impostato in una misura con un indirizzo politico che personalmente non condivido in base al quale la cosa essenziale delle amministrazioni pubbliche e la loro efficienza garantita dalla digitalizzazione ma non dalle competenze che sono dentro le amministrazioni pubbliche capisce quindi non si è posto proprio il problema il governo Draghi tranne salvo poi intervenire come dire a sostegno perché poi potrebbero non farcela per esempio del bando dei rifiuti del mite le domande sono state insufficienti anche nel bando da Silinito le domande sono state insufficienti che si fa le domande capisce non è che poi non li fanno cioè quel problema viene dopo adesso non li allocchiamo nemmeno quindi c'è una corsa da parte del governo a creare delle occasioni di sostegno a queste amministrazioni però come dire è un sostegno molto debole rispetto rispetto alla scala degli impegni che sono richiesti e alle tempistiche strette e alle tempistiche a voi Marina la Gelmini ha recentemente parlato di una legge quadro che che dovrebbe dare il viatico all'autonomia differenziata cosa come si sta muovendo il comitato periodico dell'autonomia vorrei puntare che tu mi dicessi cosa ne sai perché di queste leggi no entrambe entrambe le cose cosa ne sai e cosa si fa di queste leggi quadro che diciamo vengono ventilate perché non si può usare un altro termine governo dopo governo non se ne sa nulla come diciamo nulla si è saputo dei contenuti delle preintese tra governo Gentiloni e le tre regioni che dicevamo finché il sito Roars non ha deciso così surrettiziamente di pubblicarle e di rendere e farci sapere di che cosa si trattava ripeto 23 materie che riguardano la vita quotidiana di tutti noi la Gelmini sta andando avanti così come il presidente della regione Veneto in particolare che è il più agguerrito sulla vicenda anche perché è quello che chiede più materie ogni giorno praticamente ci sono dalla prima annunci dell'imminenza il testo è pronto sta per arrivare in aula il presidente il sedicente governatore Zaia non perde veramente occasione anche se sta parlando appunto delle margherite che sono uscite nella tarda primavera Veneta di parlare dell'autonomia differenziata per il Veneto raccontando diciamo l'imminenza di questa rivoluzione del ruolo storico che questo Parlamento avrà che la questione si chiuderà entro la legislatura eccetera eccetera il tema è proprio quello che si aggiunge diciamo al Cahier de Doleance che in qualche modo con grandissima competenza si può desumere anche da quello che dice il professor Viesti perché certo continuare ad essere inchiodati sulla questione della spesa storica la famosa diciamo concreta esigenza determinata sulla base di quello che si ha di qualsiasi servizio inchioda definitivamente il Sud la sua condizione di sempre maggiore minorità e del resto conferma la logica della polarizzazione di cui diceva prima il professore quindi veramente si tratta di un serpente che si morde dalla coda per cui oltre tutto quello che abbiamo detto le violazioni varie della prima parte della Costituzione che si contemperano proprio in quel capolavoro come diceva come diceva di insipienza giuridica e istituzionale che è la riforma del titolo quinto c'è anche un problema molto importante cioè che questa riforma da una parte configura una riforma istituzionale sotto mentite spoglie per i motivi che dicevamo cioè non è banale dire come mi mi ha ripreso diverse volte il professor Villone che non sarà più compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che il principio di solidarietà non sarà più uno degli elementi fondativi su cui si basa la civiltà giuridica ma anche etica e politica di questo Paese e di questa Repubblica ma c'è un tema ulteriore se noi pensiamo che la questione dell'autonomia differenziata andrà anche a determinare di fatto nella scuola e nelle altre materie che abbiamo citato la rottura del contratto collettivo nazionale noi arriveremo arriviamo molto facilmente a considerare che si tratta di una tra le altre violazioni anche di un fortissimo depotenziamento della capacità conflittuale dei lavoratori il famoso divide ed impera ed impera perché? perché ci sarà chi avrà un contratto diciamo statale chi avrà un contratto regionale così accadrà nella scuola così come è nelle previsioni di tutte e tre le bozze di preintesa persino quella quella dell'autonomia soft solidale mild l'hanno chiamata la buona autonomia l'autonomia buona come la chiamano in Emilia Romagna come la chiama Bonaccini in realtà non cambia nulla e questo è proprio l'alimentazione della divisione tra lavoratori e lavoratrici e di conseguenza un vulnus fortissimo alla democrazia alla democrazia io credo che sia assolutamente sconcertante il fatto che di questa cosa non solo non ne parla nessuno non ne sa nulla nessuno anche se arrivo diciamo forse alle parziali buone notizie qualcosa sta mutando perché non conoscendo noi appunto il testo di cui la Gelmini parla e straparla continuamente però sappiamo che la relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato che è stata incitata proprio dalla ministra Gelmini componendo un'apposita commissione preseduta da un costituzionalista che si chiamava perché è morto poverino a dicembre mi pare Beniamino Caravita ha dato un'analisi dell'autonomia differenziata che sicuramente del percorso che è stato fatto sinora che sicuramente non farà piacere diciamo ai sostenitori della rapaci dell'autonomia differenziata quali ci sembrano essere i tre presidenti di regione perché sebbene diciamo con metodi gentili e con un linguaggio piuttosto paludato sono però venute fuori alcune criticità molto consistenti ancora qualche giorno fa la corte dei conti sostanzialmente ha bocciato dicendo che l'impatto economico non solo non è valutabile ma non è nemmeno valutato e che quindi in relazione scrive la corte a quanto evidenziato ove si voglia riaccelerare il processo di differenziazione appare necessario superare le difficoltà evidenziate dalla presente relazione in particolare quelle in ordine hanno necessaria acquisizione delle informazioni e dei correlativi dati relativi all'eventuale passaggio alle regioni delle risorse umane strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni trasferire cioè di fatto è stato determinato il dispositivo ma non ci si dice né quali siano i vantaggi che un eventuale passaggio all'autonomia differenziata dovrebbe apportare diciamo alla collettività e nemmeno l'impatto economico è stato valutato ancora un altro elemento che sembra essere ed è sicuramente molto importante il 24 marzo del 2022 qualche giorno fa il presidente nazionale dell'Ampia ha diciamo ha conservato uno spazio all'interno della propria relazione per dire no la nostra profonda opposizione ai progetti di autonomia differenziata perché portatori di ineguale distribuzione ancora e questo solo perché sono belle notizie ve le do la NAO cioè il più importante sindacato della dirigenza medica e sanitaria l'autonomia differenziata uccide l'uguaglianza e infine anche la CGL per quanto riguarda l'autonomia differenziata sul DEF ha consegnato un documento in cui boccia l'autonomia differenziata il che di fatto è anche una novità perché come sapete gli accordi regionali sono stati ratificati anche dai sindacati e quindi questo e lo avrete sentito tutti che persino il sindaco di Bologna si è schierato aperti superbis contro il proprio presidente di regione non così conflittualmente ma di fatto sì perché ha parlato di autonomia differenziata no grazie un progetto superato eventualmente ci vuole un'attitudine contraria anche credo per i motivi che evidenziava prima il professor Viesti noi dal canto nostro siamo riusciti ad articolare diciamo una unità di intenti parlo proprio di unità di intenti perché noi come comitato ci chiamiamo per il ritiro di ogni autonomia differenziata l'unità della repubblica e l'uguaglianza dei diritti che è un titolo molto lungo ma sono tre concetti molto chiari l'unità della repubblica è quella prevista dall'articolo 5 della costituzione che parla dell'autonomia autonomia nell'albeo dell'unità della repubblica è un inciso molto enfatico e siamo riusciti ad organizzare questo tavolo tu Antonella lo sai perché partecipi a questo tavolo che tiene dentro mondo dell'associazionismo tra cui medicina democratica carta in regola il forum italiano per l'acqua pubblica partiti politici come Sinistra Italiana il partito della rifondazione comunista DEMA il partito comunista e mondo importantissimo mondo del sindacato la FLCGL cioè il sindacato della scuola della CGL l'USB i Cobas ed altri sindacati diciamo così conflittuali perché ve lo dico questo prima di tutto perché cercheremo di mantenere il tavolo per obiettivi nessuno vuole portare sotto la nostra visione diciamo che è una visione sicuramente che si potrebbe considerare estremista da certi punti di vista ma noi ci crediamo tanto ci crediamo al punto che la prima dichiarazione nel luglio del 2019 alla fine di un'assemblea partecipatissima quando ancora si potrebbero fare le assemblee fu se solo una materia passasse alla competenza regionale esclusiva sarebbe stemperato il principio di uguaglianza e noi a questo non ci siamo però abbiamo degli obiettivi comuni che non diciamo scavalcano le sensibilità di nessuno di questi soggetti così diversi c'è anche il CDC dentro al momento ci stiamo diciamo stiamo cercando di organizzare dei comitati regionali che individuino iniziative all'interno delle regioni abbiamo scritto un documento da consegnare al presidente della Camera FICO proprio per sollevare il problema della democrazia e delle procedure a dir poco opache vi ricordo che anche nel prossimo DEF il primo collegato alla finanziaria è l'attuazione dell'articolo 116 comma 3 e per quanto ci riguarda stiamo lavorando insieme ad una cordata molto ampia di associazioni e partiti per coniugare la battaglia contro l'autonomia differenziata con quella contro il DDL concorrenza che in qualche modo è il complemento dal punto di vista diciamo degli enti locali di quel processo di privatizzazione che certamente l'autonomia differenziata metterà in campo perché parliamoci chiaramente chiedere l'autonomia differenziata e come dicevi tu Antonella oggi solo due regioni in Italia non hanno ancora iniziato delle pratiche cioè il Molise e l'Abruzzo gli altri anche la Calabria ha iniziato diciamo un percorso benché non avanzato come quella delle tre regioni guardiamo con molta attenzione infine ai progetti di cancellazione del comma 3 dell'articolo 116 che sviterebbero uso l'orrida frase che usava il ministro Fioroni quella del cacciavite quando come dire ci buttava addosso l'ulteriore riforma della scuola nel 2006 2008 ma insomma sarebbe una scacciavitata molto significativa alla possibilità di andare avanti con un progetto devastante fermo restando che tutto il titolo quinto insomma c'è un articolo 117 c'è un articolo 118 c'è un articolo 119 che avrebbero bisogno di una revisionata ma insomma non chiediamo troppo insomma e quindi continueremo in questo modo a cercare di svolgere iniziative insieme e sempre ringraziando chi come il professor Viesti ci ha dato la possibilità di studiare le cose io insegno italiano e latino al liceo classico quindi nulla di più lontano da me dell'economia eppure quel libro verso la secessione dei ricchi me lo sono letto e ho imparato un sacco di cose e invece il diritto costituzionale diciamo per chi come me fa militanza da tanti anni sulla scuola della Costituzione della Repubblica è qualcosa di doveroso come del resto lo sarebbe anche l'economia comunque grazie veramente per questa iniziativa perché è molto veramente importante provare a parlarne con tutti io ringrazio moltissimo voi e vorrei chiudere proprio con uno sguardo sul presente perché sotto due profili lo chiedo ad entrambi un commento finale da un lato questo discorso della crisi energetica vediamo che sta avendo delle conseguenze di questi viaggi verso nuovi fornitori di energie e di gas mi chiedo se questo spostamento questa ridefinizione della geografia economica dal punto di vista delle fonti energetiche possa avere delle ricadute positive per il mediterraneo e quindi il sud Italia e questa è una prima considerazione così come voglio dire sia la pandemia che questa guerra mi sembra che obblighino le economie a ridefinire un po' l'orientamento da export led a economie più più centrate sulla domanda interna invece che sull'export e quindi mi chiedo se questo non potrebbe beneficiare anche un discorso di maggiore interconnessione tra mezzogiorno e centro nord e dall'altra una vostra considerazione che lega questa focolaio destabilizzante in Ucraina questa guerra per procura che sposta la spesa pubblica verso spese militari facendo perdere di vista di nuovo il discorso della spesa sociale che nasce tutto sommato da un discorso di autonomie non gestite quindi il rapporto il discorso dell'equilibrio tra stati più centralistici come la Francia con stati federali come la Germania e l'Italia che è una via di mezzo non si capisce però l'Europa nel suo complesso ha un problema di equilibrio tra i vari livelli istituzionali in senso verticale non gestito e non affrontato ecco volevo chiudere con delle vostre considerazioni su questi due aspetti per ricollegarci al presente molto drammatico e preoccupante che però forse potrebbe potrebbe nella misura in cui dalle crisi a volte nascono anche delle riflessioni e dei cambi di policy come è stato per la pandemia in questa fase non sembra che ci sia una volontà di affrontare anche in maniera coesa per l'Europa questo problema delle fonti energetiche e di un suo ruolo che sia centrato rispetto al benessere delle sue popolazioni e non all'intervento in termini di supporto bellico insomma che è stata la prima risposta io vi chiedo scusa mi devo però staccare immediatamente perché diciamo ho un'esigenza adesso qui telegraficamente la risposta due cose direi dalle guerre non viene mai niente di buono quindi finché dura io sono molto preoccupato molto 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 preoccupato facciamola finire e poi ragioniamo sulle possibili conseguenze la seconda è che di tutte le cose che ha detto lei quella che mi sembra diciamo un po' più tangibile è il discorso energetico perché in ogni caso comunque vado a finire l'esigenza di una maggiore indipendenza energetica rimarrà e questo comunque sposterà verso le rinnovabili e quindi questo comunque potrebbe produrre degli impatti positivi nel mezzogiorno e per il resto non mi sentirei dire niente direi prima facciamola finire ragioniamo poi vediamo quello che succede io vi chiedo scusa davvero ma devo scappare perché abbiamo sparato un po' i tempi grazie arrivederci arrivederci ma io guarda naturalmente non sono una specialista di questa di queste materie e non amo parlare di cose che non conosco bene però ci sono alcune valutazioni che certamente riesco a fare cioè io penso che sia davvero scandaloso che dopo il covid e dopo la sterzata ulteriore che la guerra ha dato ad una nazione che è in crisi come la nostra ebbene si parli ancora di autonomia differenziata come dicevo prima la questione viene posta addirittura tra i primi tra il primo provvedimento collegato al DEF questo è incredibile tra l'altro oggi mi è capitato di ascoltare l'intervento in aula del senatore Gregorio De Falco il quale ha chiesto l'emendamento lo stralcio di quel di quel primo elemento nel collegato solo 20 senatori ho parlato con lui per telefono nell'incuria totale nella ignoranza totale di ciò di cui si stava parlato hanno volato a favore di quell'emendamento sarà bene Marina scusa se ti interrompo di far sapere quali sono i nomi di questi vendi sì ci sono ho la registrazione certamente lo faremo perché appunto ci rivolgeremo a loro la seconda cosa mi sembra veramente è una cosa banale ma sicuramente importante da ricordare come il presidente del consiglio abbia dilleggiato la questione della ricaduta economica terrificante che si avrà soprattutto sui scetti più deboli di questo paese cioè quelli che già sono stati terribilmente impoveriti e che non meritano di essere messi alla berlina l'alternativa non può essere tra la pace e l'aria condizionata c'è gente che va a lavorare che fa dei lavori massacranti usando l'automobile c'è gente che ha dei consumi obbligatori come sapete il caro bollette è frutto di una speculazione distruttiva per questo paese ci sarà chi ci farà sprofitto su questa cosa la terza cosa e forse la più clamorosa che nel 117,3 cioè sulle materie a legislazione attualmente concorrente che vengono richieste dalle regioni cioè produzione trasporto e distribuzione dell'energia e quindi di conseguenza ancora una volta un fiorino ognuno esatto farà per sé e invece concludo proprio davvero l'ultima parola una parola sulla scuola cioè sulla funzione importantissima che la scuola può avere da questo punto di vista perché perché io credo che in questo momento tutta la questione che è una questione tragica sulla quale davvero non credo di poter dire parole né interessanti né significative vede nel nostro paese però il prevalere di un pensiero unico che non si è mai registrato in maniera così violenta ed aggressiva oggi io prima di questo webinar ho fatto un incontro con le mie classi che faranno l'esame di stato con Domenico Gallo che immagino tu conosca presidente di sezione di Cassazione membro del coordinamento della democrazia costituzionale pacifissa da sempre sull'articolo 11 della costituzione ecco io credo che la scuola possa tantissimo per evitare appunto la deriva assolutamente ingenerosa nei confronti del pensiero critico analitico che uso questa orrida parola per essere sintetica la narrazione a senso unico di tutta la vicenda e di tutta la questione il che naturalmente non significa né essere filoputiniani né non essere solidali con il popolo ucraino né non volere immediatamente la cessazione del conflitto credo che sia pleonastico dirlo ecco io credo che qui abbiamo veramente un pericolo democratico che riguarda anche la stampa e i mezzi di informazione mi spiace che non ho risposto nulla sullo specifico ma ti ricordo sono cose assolutamente ti ringrazio moltissimo preferisco così ti ringrazio molto marina perché è stato fondamentale il tuo il tuo contributo ti ringrazio di tutte le iniziative a cui hai dato un po' di di ecco visto che non abbiamo mezzi di informazione che ci aiutino che ci aiutano e quindi chiudiamo così grazie ancora grazie a te e grazie a mille piani arrivederci ciao eccoci qua grazie a te grazie a te grazie a te